Ciao a tutti, io sono Simone Facchetti e vi do il benvenuto sul canale YouTube di Showcar, la testata giornalistica di informazione automobilistica che dal 2016 vi tiene costantemente aggiornati con articoli, prove su strada, recensioni, approfondimenti e rendering esclusivi riguardanti il mondo dell'auto. Questo 2019 è stato un anno importante per noi, sono arrivato io, Simone Facchetti, in redazione e prove su strada, è arrivata Monia Mazzarone, la nostra collaboratrice che si occuperà di redazione e quindi di news, è arrivato Stefano Raineri, il nostro fotografo ufficiale Franciacorta Supercars su Instagram. Insomma, tante novità che si aggiungono alla redazione organica che già si compone di Marcello Poblete e Veronica Poblete, i punti cardine di questa redazione, che nel 2020 subirà un vero e proprio restale, una trasformazione che porterà tantissime novità sia dal punto di vista della copertura sia da quello dei contenuti. Ma andiamo con ordine, nel 2019 abbiamo lanciato negli scorsi giorni questo nuovo sito, www.showcar.news, l'indirizzo non cambia, cambia invece tutto ciò che riguarda grafica e struttura dei contenuti. Andiamo a vedere allora cosa è cambiato. Un sito che come vediamo è stato pensato fin dall'inizio per essere fruibile in ugual modo, in modo molto più leggibile e intuitivo, sia da PC sia da mobile. Lo vediamo con questa home page che si sviluppa in modo orizzontale ma che si adatta perfettamente anche all'utilizzo in verticale. A livello orizzontale abbiamo la disposizione di tutte le varie categorie del sito, dalle notizie in cui quotidianamente vi terremo aggiornati per quanto riguarda il mondo dell'auto, quindi listini, novità, tutto ciò che c'è da sapere, test drive, le nostre prove su strada complete di video, quindi in questo caso abbiamo il supporto del canale YouTube e sempre da questo punto di vista la TV, quindi la copertura dei nostri canali TV che nel 2019 ma soprattutto nel 2020 subirà una vera e propria impennata con l'arrivo di nuove emittenti sia locali sia nazionali. E ancora uno dei nostri vanti, la sezione rendering in cui attraverso ricostruzioni autorevoli vi raccontiamo quella che sarà l'estetica dei modelli che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. E ancora la sezione anteprime statiche e una delle grandi novità della redazione 2020, una sezione dedicata non solo all'auto elettrica, all'auto ibrida, all'elettrificazione in generale ma anche alla mobilità alternativa e alla guida autonoma, insomma tutto ciò che riguarda l'evoluzione del settore automotive. Infine sezione speciali che raggruppa tutti i nostri approfondimenti che siano prove speciali oppure inchieste oppure guide all'acquisto. E poi c'è la sezione social che vi accompagnerà a scoprire la copertura di Showcar non solo sul sito ma anche sul canale Instagram. A proposito vi invito a seguirci se non l'avete ancora fatto, la pagina Facebook e ovviamente il canale YouTube. Anche in questo caso vi invito se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al nostro canale YouTube, a commentare, a mettere mi piace se ovviamente i video vi sono piaciuti. Con questo è tutto, io vi do appuntamento ad un 2020 in cui Showcar cambierà ancora tanto, si evolverà, vi proporrà ancora più contenuti e lo farà cercando di farlo sempre al meglio. Con questo io e la redazione di Showcar vi auguriamo non solo buone feste ma anche un 2020 di grandi soddisfazioni come quello che speriamo sarà il nostro. Noi ci vediamo al prossimo video!